Un progetto di solidarietà orizzontale dai cittadini per i cittadini e questo in sintesi il senso dell'iniziativa il sostegno a distanza nell'Italia che riparte presentata a potenza dal gruppo di volontariato solidarietà nell'ambito del programma l'uno per l'altro finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Un'idea che sul modello dell'aiuto a distanza che ormai da decenni è la base della solidarietà verso il sud del mondo inaugura il tempo del cosiddetto sostegno a vicinanza ovvero un momento in cui l'aiuto a chi ne ha bisogno diventa di prossimità, donare il proprio tempo e le proprie competenze a chi ci è vicino. Ci si è resi conto che negli ultimi tempi in modo particolare a causa della pandemia ma non solo anche delle congiunture economiche sempre in queste fasi assolutamente sfavorevoli si è verificato un fenomeno di impoverimento notevole delle nostre comunità e quindi si è reso necessario secondo noi anche sperimentare nuove formule di solidarietà e di welfare generativo. Il progetto che ha il patrocinio di Rai per la sostenibilità è ancora nelle fasi iniziali e si snoderà attraverso tre diversi step la mappatura dei bisogni e delle opportunità sul territorio percorsi di supporto psicosociale alle persone e l'avvio di campagne di sostegno e avvicinanza nelle specifiche aree target del progetto. Partner dell'iniziativa il comune di potenza l'assessore alle politiche sociali Fernando Picerno ha sottolineato l'importanza del ruolo delle associazioni del terzo settore. Non si tratta solamente di verificare qual è il bisogno ma anche costruire insieme alle persone cosiddette chiamiamolo così comunità cosiddette beneficiari un percorso comune e condiviso di crescita.